Buongiorno, sono Marco Zanazzi, direttore Marketing e Comunicazione CSR della Biretti Corriere Espresso ed oggi sono qui con Andrea Giovenali della Nexplora. Grazie Andrea di essere qui oggi, sono sicuro che il contributo che porterai con la tua analisi potrà essere interessante per capire meglio cosa è successo durante il lockdown ma anche il post lockdown. Grazie a te Marco, grazie per questo invito. Certamente è stato un momento molto complesso e che ha impattato duramente sui comportamenti e il vissuto dei consumatori e quindi per entrare un po' di più nel merito di quello che è accaduto ho deciso di portare tre contributi che fanno riferimento a tre fasi diverse di questa inaspettata pandemia. Le prime informazioni che vedremo riguardano ciò che è accaduto nell'occhio del ciclone, cioè quando abbiamo subito il lockdown e come sono cambiati i comportamenti durante quella particolare fase. Una seconda area di informazioni riguarda invece ciò che è accaduto dalla fase 2 in avanti, cioè quando io un po' scherzosamente dicono hanno riaperto le nostre gabbie, fino ad oggi e quindi che cosa è rimasto nei comportamenti dei consumatori di quella fase invece di lockdown. Il terzo e ultimo contributo invece confronterà che cosa si faceva prima della pandemia nell'ambito degli acquisti online e che cosa di questa esperienza è rimasto invece nei comportamenti delle persone a distanza di alcuni mesi. Quindi cominciamo ad affrontare che cosa è avvenuto nella fase più critica in attesa del lockdown quando siamo stati costretti nelle nostre abitazioni. Quello che noi abbiamo constatato è da un lato un immediato ricorso ai beni di prima necessità che hanno beneficiato dei servizi di e-commerce e quindi della spesa online, un importante incremento soprattutto sui beni di largo consumo e anche un incremento sul delivery a casa di cibi pronti e preparati. Quello che sicuramente in questa fase ha partito di più come mostrano i dati riguarda i beni non di prima necessità, quindi nel caso specifico abbigliamento, cose che quindi non rientravano nell'esigenza e nell'approvvigionamento caratteristico classico delle persone e delle famiglie. Questo a dirci che nella fase di lockdown abbiamo osservato una forte accelerazione, un aumento dichiarato da parte delle persone relativamente proprio al ricorso agli acquisti online per beni di prima necessità, quindi per la spesa a casa e anche per la consegna a casa di cibi pronti. Quindi abbiamo constatato che questa forzata permanenza nelle case ha indotto quelli che noi chiamiamo dei neofiti, cioè delle persone che non avevano una confidenza con l'online ad avvicinarsi a questo tipo di pratica per il proprio shopping. Soprattutto abbiamo visto relativamente ai beni di prima necessità o il cibo pronto a casa. Che cosa quindi ci siamo chiesti è accaduto quando finalmente siamo stati nella condizione di poter uscire dalle nostre case? Che cosa è rimasto, come dire, attaccato di questo comportamento e di questa esperienza, soprattutto nelle persone che precedentemente non avevano una confidenza con l'e-commerce? Beh, la cosa interessante che si osserva è che se da un lato, diciamo, in qualche modo si è tornati un po' anche a frequentare i punti vendita tradizionali, quello che soprattutto si è caratterizzata come una fase, diciamo, di ripresa per le persone che non avevano una confidenza con l'e-commerce è che hanno, come dire, adottato un maggiore uso di internet soprattutto per effettuare ricerche e informarsi a riguardo dei propri acquisti. Quindi un po' come a dire che se durante la fase di lockdown si è rafforzati a, come dire, almeno per quella parte, diciamo, di esigenze di prima necessità a informarsi e ad acquistare soprattutto per i profani o i neofiti, diciamo, dell'e-commerce la fase 2 ha, come dire, lasciato questo tipo di comportamento cioè il fatto di potersi informare attraverso internet effettuare delle ricerche attraverso internet a riguardo di quello che si vuole acquistare e poi anche tornare a effettuare l'acquisto nei punti vendita tradizionali. Questo non più e non soltanto, come vedremo successivamente, per i beni di prima necessità ma soprattutto in un riavvicinamento ai beni che sono, diciamo, meno strettamente necessari e quindi beni durevoli, beni che riguardano l'abbigliamento, la casa e varie altre esigenze della persona e della famiglia.